Velocizzare e semplificare i processi di ricostruzione delle scuole del Comune dell'Aquila, danneggiate a seguito del terremoto del 2009, assicurando al tempo stesso un controllo di legalità sugli appalti. È l'obiettivo dell'accordo sottoscritto a Roma tra il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, il presidente dell'autorità nazionale anticorruzione Raffaele Cantone e il dirigente del provveditorato interregionale per il Lazio, Abruzzo e Sardegna Carlo Clementi. Nei giorni scorsi l'Aggiunta Comunale aveva approvato lo schema dell'intesa grazie alla quale sarà possibile ricorrere a procedure semplificate per interventi sugli edifici scolastici lesionati a seguito dal sisma, riducendo i tempi per gare d'appalto e affidamento dei lavori. In base all'accordo, inoltre, il provveditorato svolgerà l'attività centrale unica di committenza per le opere di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, mentre per le somme che superano tale limite sarà la stazione appaltante. La firma del documento, congiunto con ANAC e provveditorato, rappresenta a nove anni dal sisma un punto di svolta nell'azione di ripristino dell'edilizia scolastica, che questa amministrazione intende iniziare a concludere in tempi rapidi, dichiara il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi. Ringrazio quanti, tra dirigenti, funzionari e tecnici, hanno contribuito per il raggiungimento di questo traguardo, solo il primo obiettivo verso la restituzione ai nostri figli di scuole sicure e moderne.